United Nations Interim Forces Lebanon è l'acronimo di UNIFIL, la forza di interposizione tra israeliani e Hezbollah, operativa su territorio libanese. La missione ONU, protagonista nelle ultime ore di tutti i tabloid e notiziari mondiali, è nata nel 1978 in seguito alla guerra contro Israele da parte del Libano e ha visto poi tre successive fasi, una nel 1982, una nel 2000 e quella attuale, intrapresa nel 2006 quando a capo dell'esercito militare italiano c'era il generale marchigiano Filiberto Cecchi, nato e cresciuto a Genga. Tutto quello che avviene in questo momento sinceramente era prevedibile, era prevedibile ed era temuto se vogliamo, ecco questo la presenza di UNIFIL proprio dimostra questo, che la situazione in quell'area è costantemente incandescente. La missione UNIFIL è stata creata citando anche la risoluzione 1701 per garantire sicurezza, bloccare quindi il riarmo e gli sconfinamenti nell'area appunto di confine israelo-libanese che si sviluppa su un perimetro di ben 25 chilometri. Quello che interessa in questo momento Israele è prioritariamente salvaguardare una fascia di sicurezza, chiamiamolo così, un cuscinetto, una zona cuscinetto che consenta di allontanare gli armamenti di media agitata in mano a Hezbollah e quindi salvaguardare le popolazioni del nord Galilea che sono sempre sotto attacco. C'è apprezzione però in queste ore perché ci sono più di 1200 militari italiani impegnati nella missione, asserragliate nei bunker ONU, che da protocollo sono tutelati dalla legge internazionale, per cui qualsiasi incursione violerebbe sia la sovranità e l'integrità territoriale libanese, sia la risoluzione 1701. Io mi permetto soltanto a queste famiglie di rasserenarle un po' e lo faccio sulla base delle esperienze che ho vissuto. Questi nostri ragazzi sono tutti professionalmente molto validi, sanno benissimo quello che stanno facendo e in quale situazione si trovano. E quindi io sono convinto che anche per la loro status internazionale saranno rispettati da entrambe.